C'è qualcuno? Ehi! Chi sei tu? Chi sono? Mi chiamo... Jack Vulcan. Lui dov'è? Non capisco la tua domanda. E tuo orologiaio? No, dove diavolo è? Non c'è più nessun umano qui. Solo tu. Che vuol dire non c'è più nessun umano qui? Chi ti ha modificato? Nessuno mi ha modificato. Chi ha manomesso i tuoi protocolli? Nessuno ha manomesso i miei protocolli. E loro chi li ha modificati? Io li ho migliorati. Tu sei il capo? Capo è una struttura del pensiero umano. No, ci deve essere qualcuno. Benvenuti. Mancano pochi giorni all'uscita dell'adattamento cinematografico, del best seller ad alto tasso erotico, 50 sfumature di grigio. Mentre milioni di fan in tutto il mondo aspettano di vedere sul grande schermo la bollente storia d'amore tra Anastasia Steele e l'affascinante Mr. Grey, la Universal è già certa degli strepitosi incassi del film. Nell'attesa è arrivata la notizia, confermata da Sam Taylor Johnson, regista, che i sequel, 50 sfumature di nero, Darken in originale, e 50 sfumature di rosso, Freed, sono in fase di sviluppo. Non si conoscono ancora le date di uscita e non è stato confermato se Sam Taylor Johnson tornerà a dirigere entrambi i capitoli. È certo invece il ritorno di Jamie Dornan e di Dakota Johnson nei panni di Christian e Anastasia. Lo so, lo so, non a tutti piace questo Mr. Grey. Staremo a vedere come andrà questo primo film. Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti. Ciao!